Siamo tornati al maestro Alfonso Pepe, edizione 2015 di Repanetton, quest'anno addirittura menzione speciale per la sua pastiera, ci spieghi un attimo. Sì, grazie, sono molto piacere, anche quest'anno con un prodotto innovativo abbiamo preparato una pastiera lievitata che è fatta con la base del palettone e gli ingredienti della pastiera che sono fatti con ricotta, grano, canditi, tutti gli ingredienti della pastiera vengono inseriti in questa pasta lievitata. Facendola lievitare abbiamo un prodotto molto più leggero e digeribile. La pastiera, noi diciamo che da noi è quella classica compatta con nostra crema. e mangiando una fettina ci fermiamo, invece con la pastiera andiamo avanti perché abbiamo la leggerezza. Quest'anno come sta andando l'evento? Ma, dico, non bene, benissimo. Stiamo un po' stretti, però è andata molto bene, molto meglio di l'anno scorso. Quindi ci vediamo l'anno prossimo sicuramente? Eh, ci devo pensare perché sennò qui mi distrucete, no, ci seremo tranquillamente. Grazie mille, buone feste e alla prossima. Grazie mille, buone feste e alla prossima.